Garissimi oroniani, popolo dell'oro, ovunque voi siate vicino o lontani, eccoci ad un nuovo appuntamento a Gold Day. Oramai mi conoscete un po' tutti, va bene, per i pochi che ancora non lo sanno io sono Stefano Molinelli e sono il responsabile commerciare Gold Care Italy. Mi sentite sempre parlare del loro fisico di investimento, ma forse a qualcuno è sfuggito sapere che azienda siamo, chi è la Gold Care Italy? Ebbene, è subito importante precisare una cosa, la Gold Care Italy è una società italiana con sede in Italia a Milano, con oro detenuto in Italia. Questo è molto molto importante già saperlo. Poi che cosa offriamo? Offriamo opportunità in oro per tutelare e mettere in sicurezza i risparmi e i capitali dei clienti risparmiatori e investitori. Ma come diamo questa opportunità? Beh, la diamo attraverso dei pacchetti finiti, dei prodotti finiti. Abbiamo i piani one shot, dove i clienti e gli investitori con della disponibilità di capitale possono acquistare direttamente oro. Oppure per chi non ha questa disponibilità iniziale o per chi vuole semplicemente seguire l'andamento nel tempo dell'oro, può programmarsi degli acquisti nel tempo appunto, con dei piani di acquisto in oro, molto più personalizzabili e molto più adattabili, con delle semplici rate. Abbiamo anche l'opportunità PDA, ossia Programma Diversificazione Asset, che è una proposta prevalentemente rivolta a investitori voluti, che fanno della diversificazione interna all'area di investimento in asset fisici preziosi un ulteriore valore aggiunto alle qualità di sicurezza, tutela e rivalutazione dei singoli beni rifugio. E infine GoldCare è il primo master dealer italiano che rilascia ricevute digitali DSG, Digital Storage Gold, per ogni acquisto in oro. Acquistare le proprietà di ricevute elettroniche DSG GoldCare significa essere un investitore evoluto in oro fisico che ha compreso l'importanza anche di diversificare il modo di custodire il proprio oro e come meglio usufruirne, appunto in un semplice wallet e che potrai tenere sempre in tasca e girare il mondo. Come vedete la GoldCare offre un'infinità di opportunità, ma soprattutto offre la sicurezza, la sicurezza di tutelare al meglio i propri soldi, i propri risparmi per un futuro più sereno. Vienici a conoscere, visita il nostro sito GoldCareIt, il nostro blog GoldCareOro.it e tutti i nostri profili social e anche attraverso speaker troverai i nostri podcast. Insomma, GoldCare, un mondo da scoprire, a tuo servizio con oro fisico d'investimento. Ciao, grazie, alla prossima!